xml encoding uguale utf, 8, c'è giag grandi attese per il prossimo festive al di Sanremo, condotto da Amadeus che avrà luogo dal 4 all'8 febbraio 2 0-20 e che sarà trasmesso come tradiz diretta a Zurai 1 ed è partito che il cosiddetto Totonomisiap per quanto riguarda i concorrenti e per gli ospiti ecoconduttori.un a rinuncia ufficiale è comunque da qualche ora fa.il cantautore tiziano ferro non svolgerà il ruolo dico conduttore, come annunciato dal suo agente alla stampa, lui è un antepunto stiamo studiando cosa fa tiziano vuole esserci Amadeus lo vuole punto ma non vogliamo esserci un altro medley.credo che sia a pref eribile non esserci che passereino servati come è capitato a Moltiart gli sti c'è un altro nome che circola però con insistenza continuo ad hop ad affiancare il condutto ridi ai soliti igno tipo tre bs file bravissima e se che si condutti televisiva diletta le 8.leso azioni stanno salendo di gior non in giorno, anche se al momento d'up sua non c'è stata alcuna confer c'ha le punto ma la notizia bombala dal settimanale Chirigua le primi due cantanti già scelte prendere parte alla Kermessemu cale continua dopo la foto, Ako correre alla vittoria finale sono conti ad esserceludi ai biancati e punto entrambi hanno già partecipati o al festival di Sanremo, Manoan tanta voglia di gareggiare punto la Trizi ha già manifestato in una recente intervista alla sua volontà di tornare in gara punto oltre a loro due n team e settimane erano statif e altri nominativi continuo ad opo la foto, nella città Ligure probabilmente ammirare anche di due ex concorrenti di Am di, Giordan Ange ed Alberto Urso soprattutto l'esplosiva Ereddit Petralamborghini punto a propos to delle parole rilasciate da Elod e, ecco cosa ha detto qualche giorno a proposito di Sanremo mi piac Erebbe molto tornarci, moltissimo Questa è la verità appunto del resto è il pa Il copiù bello e più importante della vita lazeista invece facendop parlare molto di sé per la sua relazione Né sentimentale con l'inviato DL N'apostrofo Stefano Corti punto con lui Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti